Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti a questa sessione Promuovere interventi per la salute, less is more Non so chi ha fatto il titolo, è interessante Mattia e tu ho l'idea, less is more Secondo me il professore Maretti perché c'era già in un altro nostro congresso Avevo probabilmente bevuto abbondantemente come ieri sera Less is more, tre relatori e tre argomenti secondo me molto interessanti Ho chiesto a tutti i relatori di stare nei 20 minuti così abbiamo più tempo per la discussione Perché credo che alcuni di questi aspetti vadano approfonditi E quindi chiamerei subito la prima relatrice, la dottoressa Chiara Pavan Che ci parlerà di approccio non farmacologico all'invecchiamento sano Buongiorno a tutti, grazie agli organizzatori per l'invito In particolare alla dottoressa Carmela Rinaldi Che è stato il nostro contatto E che ci ha permesso di partecipare a questa interessantissima iniziativa Questo è il mio conflitto di interessi Ecco, siamo nel decennio dell'invecchiamento sano Il 2020 è stato il primo anno nel mondo in cui le persone a livello mondiale Di un'età superiore a 60 anni hanno superato i bambini da 0 a 5 anni L'invecchiamento sano non è solo l'assenza di malattia Ma è la capacità di sviluppare e mantenere quelle abilità funzionali Che assicurano il benessere della persona nell'età avanzata L'abilità funzionale dell'individuo non è determinata solo dall'individuo stesso Ma anche dal contesto sociale, culturale ed economico In cui l'individuo si trova a vivere L'Organizzazione Mondiale della Sanità ci dice che l'invecchiamento sano Può essere una realtà per tutti Dovrebbe esserlo almeno Pertanto dobbiamo spostare la nostra attenzione Da vederlo come semplicemente l'assenza di malattia Ha un atteggiamento proattivo che ci permetta di far vivere le persone anziane Secondo le loro abilità e secondo i loro valori Ma date bene che la questione dell'invecchiamento Non è una questione che riguarda solo l'Europa e il Nord America A livello mondiale, se noi andiamo a vedere Il 58% delle persone di età superiore a 68 anni risiede in Asia E solo il 28% degli ultrasessantenni abita in Nord America e in Europa Pertanto è un problema di salute mondiale Quando l'Organizzazione Mondiale della Sanità descrive l'invecchiamento sano Ne parla sotto molteplici aspetti L'aspetto medico, l'aspetto legato ai farmaci è solo uno degli aspetti C'è l'aspetto alimentare, c'è l'aspetto legato alla qualità della vita All'eguaglianza di genere, all'ambiente, alle infrastrutture Pertanto è un concetto globale, è un concetto multidisciplinare A ben vedere questo c'era già nel 1997 Quando non si parlava ancora di healthy aging Ma si parlava di successful aging Nel lavoro pionieristico di Raw Dove anche qui l'invecchiamento di successo Non era inteso solo come ridurre il carico di disabilità e di malattia Ma anche mantenere una buona cognitività e un'attività fisica E mantenersi attivi Un continuous engagement viene descritto con la vita Pertanto io vi parlerò di un approccio molto pratico Perché questo è un convegno dove sono descritti molto bene da specialisti del settore Meccanismi molecolari, meccanismi cellulari Cose molto complesse e molto importanti Io però lavoro in un ospedale di periferia In un ospedale della provincia veronese E con cosa mi confronto? Mi confronto con una fila di pazienti che aspetta per essere visitati in ambulatorio E con i malati ricoverati Pertanto cercherò di darvi qualche riflessione Su quella che è anche la mia esperienza personale Per partire da un approccio pratico Sono andata a guardare cosa dice il National Health System britannico Ha fatto una guida ancora nel 2015 per i cittadini Dicendo cosa dobbiamo fare per avere un invecchiamento sano La prima domanda che viene posta dice Hai notato che ci metti un pochettino di più tempo ad andare alla stazione dell'autobus Rispetto a quanto non avessi fatto prima O che andare al supermercato ti porta via più tempo Sei un pochettino più lento Ebbene propongono di fare praticamente una specie di piccola Short physical performance battery Al paziente dice prova a misurarti Metti un nastro per terra E controlla quanto tempo ci metti a fare questo percorso Se ci metti più di 5 secondi Probabilmente hai un problema E questa guida ti aiuterà a cercare di risolverlo Pertanto l'Organizzazione Mondiale della Sanità Pone tra gli obiettivi per un invecchiamento sano L'attività fisica Cos'è l'attività fisica? L'attività fisica è diversa dall'esercizio fisico L'attività fisica è il movimento, la spesa energetica Che tutti noi facciamo Attivando il nostro sistema muscolare Per tutte le attività della vita quotidiana Siano esse attività legate al lavoro Che al piacere, al movimento L'esercizio fisico invece è un'attività strutturata È un'attività programmata Che deve essere applicato Secondo delle regole di modalità Di intensità, di volume e di frequenza Allora capite che è un po' difficile Per me, che faccio un'attività clinica Prescrivere un'attività fisica È difficile, non posso fare una ricetta Dove scrivo, prescrivo un'attività fisica moderata È un discorso un pochettino più complesso E vedremo come C'è da dire però che Negli adulti e soprattutto negli anziani L'attività fisica ha dei benefici innegabili Diminuisce le cause di mortalità Per tutte le cause Diminuisce il rischio di malattie cardiovascolari E sappiamo quanto il burden delle malattie cardiovascolari È rilevante nella nostra popolazione Addirittura riduce il rischio di alcune neoplasie specifiche Previene le cadute Ne parleremo dopo Le cadute sono un grossissimo problema nella popolazione anziana E migliora l'aspetto cognitivo E i sintomi legati ad ansia e depressione Allora, come possiamo fare Per che i nostri pazienti Facciano effettivamente dell'attività fisica E dell'esercizio fisico Sempre la WHO ci viene in aiuto Dicendoci cosa dovremmo incoraggiare Per gli adulti che hanno più di 65 anni Dovrebbero svolgere almeno 150 minuti Da 150 a 300 minuti a settimana Di attività fisica di intensità moderata Di tipo aerobico Oppure dai 75 ai 150 minuti Di attività fisica più intensa Capite bene che è difficile Implementare con il paziente In 30 minuti di visita ambulatoriale Un discorso di questo tipo Forse servirebbero interventi strutturati Di diversa portata Cosa ci dice anche? Che comunque gli anziani Quelli che noi vediamo Che hanno poca mobilità Dovrebbero comunque cercare di fare Un'attività fisica Perché previene le cadute E migliora l'equilibrio E che l'attività di rinforzo muscolare Dovrebbe coinvolgere tutti i maggiori gruppi muscolari Ed essere svolta almeno due giorni a settimana Perché? Perché l'esercizio di endurance Cioè l'esercizio L'attività fisica aerobica A basso carico Con esercizi ripetitivi Tipo non so camminare Il jogging Aumenta la sensibilità del sistema muscolare All'insulina E previene quelle che sono Le modificazioni strutturali Legate all'invecchiamento Se andiamo poi a vedere invece L'esercizio di resistenza Quello sulla destra della figura Quello aumenta la massa La forza E la capacità muscolare Sono esercizi di breve durata Però svolti contro un carico elevato E anche negli anziani Questo tipo di esercizi Ha dei benefici In quanto aumenta La forza muscolare L'invecchiamento Porta all'atrofia muscolare Per due motivi Ci sono ovviamente dei processi Degenerativi a livello cellulare Ma ci sono anche dei processi ambientali Chiamati secondary aging L'esercizio cosa permette? Permette di invertire questo trend Ci permette di avere Una massa muscolare migliore Sia in termini di sintesi proteica Ma anche in numero di miofibrille Ovviamente È ovvio che c'è una variabilità Individuale nella risposta A questo tipo di provvedimenti Però generalmente Viene riconosciuto all'esercizio fisico Un ruolo importante Nel mantenimento della massa muscolare Probabilmente con un'efficacia Addirittura maggiore Rispetto a molte alternative Farmacologiche Farmacologiche o nutrizionali Queste sono le linee guida canadesi Rinforzano quello già detto Dall'Organizzazione Mondiale della Sanità Ma ci aggiungono qualcosa Ci sono dei dati molto interessanti Che un'attività fisica Ecco, non un esercizio fisico Un'attività fisica Semplicemente incoraggiare il nostro paziente Anche solo a uscire A fare una passeggiata Nell'età avanzata Possa associarsi A un diminuito rischio di demenza In particolare di demenza di Alzheimer In particolare, inoltre Gli esercizi fisici Sembrano migliorare anche Le capacità cognitive del paziente Pertanto sarebbe un obiettivo importante Perché? Perché noi ci troviamo a confrontarci Con tre tipologie di anziani Abbiamo gli anziani robusti Gli anziani fit E lì qual è il nostro obiettivo Dei medici Degli operatori della salute Che l'anziano si mantenga tale Abbiamo però degli anziani In condizioni di fragilità reversibile Di fragilità iniziale Di pre-fragilità Fragilità di grado lieve Questi anziani In questa situazione Dobbiamo cercare di evitare Che diventino poi Gravemente fragili O addirittura disabili Perché Fino ad un certo punto In alcune situazioni La fragilità È un concetto reversibile Dobbiamo individuare queste persone Per cercare di mettere in atto Degli interventi Che possano riportarli A un migliore status funzionale E badate bene Questo concetto Che la fragilità Sia reversibile L'hanno incorporato Molto bene I nostri colleghi cardiologi Specialisti molto pragmatici E con competenze Tecnologiche notevoli In questo consensus document Recentissimo Della Società Europea Di Cardiologia Ai cardiologi Viene raccomandato Di indagare La fragilità Nei pazienti Che debbano sottoporre A procedure cardiologiche Interventistiche E si suggerisce addirittura Che un piccolo periodo Di esercizio Di riabilitazione E di supporto nutrizionale Possa ridurre Il rischio Di complicazioni E la mortalità Nei pazienti Che debbano essere Sottoposti A procedure Prevalentemente Di cardiologia interventistica Il gruppo canadese Della McGill Ha fatto addirittura Una app Ha fatto addirittura Uno score È l'Essential Freighted Toolset Del professore Afilalo Come vedete Loro valutano Quattro semplici parametri Sono cardiologi Sono molto pragmatici La capacità di alzarsi Dalla sedia C'è o no La demenza Sì no Livelli di emoglobina E livelli di albumina Ebbene In basso A destra Potete vedere Che i differenti punteggi Danno differenti outcome In termini di mortalità Ad un anno Sia nei pazienti Che vengano sottoposti A sostituzione Della valvola ortica Per via percutanea Che nei pazienti Sottoposti A chirurgia tradizionale Pertanto I cardiologi Si sono attivati Proprio in tal senso E quali sono i consigli Che danno i cardiologi I consigli che fino adesso Abbiamo dato noi geriatri Curare la nutrizione Fare esercizio Dare supporto emozionale Ai pazienti Non è lo stesso Se un paziente vive solo O se un paziente Ha un supporto sociale Probabilmente Anche l'esito Dell'intervento Sarà diverso La riabilitazione cardiologica Molto importante Prima Una specie di terapia Neoadjuvante E dopo E valutare le cadute Ridurre il rischio Di cadute Eliminare La polifarmacoterapia Inappropriata E accorciare Le ospedalizzazioni Parleremo un pochettino Di questo Anche brevemente Sulle cadute Le cadute Le conosciamo tutti bene Sono un'evenienza clinica Purtroppo frequente E con delle conseguenze disastrose Nei nostri pazienti Dobbiamo anche imparare A chiedere Se il paziente è caduto Spesso viene in ambulatorio Si vede un ematoma Si dice Ma come è caduto Ah sì sì Sono caduto Si scopre che il paziente Cade magari due volte In un mese Bene Questo è un red flag È un campanello di allarme Dobbiamo valutare Possibilmente Con un approccio Multidisciplinare E multiprofessionale Se questo paziente È effettivamente A rischio di cadute E cosa possiamo fare A riguardo Perché le cadute Sono legate A molteplici fattori Diminuzione Della acuità visiva Della acuità auditiva Ipotensione ortostatica Molti farmaci Attivi sul sistema nervoso centrale Ovviamente Gli aspetti ambientali Si dice sempre Le ciabatte I tappeti Fare attenzione E gli aspetti cognitivi Pertanto Quello che noi dobbiamo fare È cercare Di individuare Questo problema Precocemente E cercare di porre in atto Delle azioni correttive Onde evitare Che poi Il paziente Cada Arrivi in pronto soccorso Con una frattura Del femore E poi entri In un percorso Purtroppo Spesso segnato Da gravissima disabilità Quando anche Non sia mortalità Cosa dice sempre La nostra guida La nostra guida Dice agli anziani Di mangiare Molto semplicemente Mangia bene E bevi abbastanza Questi sono anziani inglesi Per dire Viene ricordato Di mangiare almeno Un pasto caldo al giorno Può sembrare banale Ma i nostri pazienti Si cucinano qualche cosa A casa Tutti hanno un pasto caldo Al giorno Io pensando La mia pratica clinica Ne ho trovato Più di qualcuno Che non mangia Adeguatamente Curare l'aspetto dentario Quanti anziani Noi vediamo Che non hanno Assolutamente Accesso a cure Odontoiatriche Di qualità Per permettere Un'adeguata assunzione Di nutrimenti E l'invecchiamento E la malnutrizione Ovviamente Sono un binomio Noto da molto tempo Ci sarà poi Una relazione A tale riguardo La malnutrizione Soprattutto la malnutrizione Per difetto È un importante Fattore di rischio Ed è un problema Ancora Molto molto Prevalente Soprattutto In determinati contesti Assistenziali Come le RSA Probabilmente Dobbiamo fare Di più Dobbiamo cercare Di attivarci Anche in tal senso Un altro argomento Che mi riguarda Invece molto da vicino È la post hospital syndrome Cioè Una condizione Di disabilità Che viene acquisita In ospedale Questa è stata descritta Già nel 2013 Nel New England Cosa succede? L'anziano Viene ricoverato Durante il ricovero Perde il ritmo circadiano Il reparto è sempre attivo Durante la notte Il paziente non dorme Spesso non si alimenta Ci sono gli esami da fare Si saltano Si saltano i pasti Non c'è nessuno Che lo aiuta Nei pasti Ha dolore Per cui vengono dati Dei farmaci E progressivamente Il paziente perde Le proprie capacità funzionali E diventa decondizionato Cioè resta a letto Teniamo presente Che quando una persona Un volontario sano Negli studi È rimasto a letto Dieci giorni Ha perso 1,5 kg Di massa magra È tantissimo Questa situazione A cosa porta? A porta A questa post hospital syndrome Che Badate bene Era stata riconosciuta Molti anni fa Ma è ancora molto presente Non ci sono stati Secondo me Significativi miglioramenti Nella pratica clinica E la conclusione Dell'autore Secondo me Mi tocca molto da vicino Perché dice Che noi dovremmo Cercare di rendere L'ospedalizzazione Meno tossica È una parola importante Insomma Io che faccio la corsia Mi pongo delle domande Ma il mio ricovero È veramente utile Per il paziente Ho migliorato Veramente il suo status Per non trovarmi Poi in questa situazione Dove le analisi Vanno tutte bene Abbiamo curato la polmonite Ma il paziente Non è più in grado Di camminare Non è più in grado Di andare in bagno Da solo Ed è diventato Completamente dipendente E questa Disabilità Associata all'ospedalizzazione Veniva descritta Nel 2011 In un lavoro molto bello Che vi invito Se avete tempo a leggere Questa frase È la frase Dell'assistente sociale Che aveva in carico Questa signora Che entra Ha un'insufficienza renale Finisce in dialisi Prima era autonoma Poi va in casa di riposo Quanti ne vediamo Nelle nostre corsie Ebbene L'assistente sociale dice Ma forse la signora Prima del ricovero Era capace di camminare Però non mi ricordo Questo vuol dire Cosa vuol dire Vuol dire Che quando noi Abbiamo il paziente In ospedale La traiettoria Cambia completamente E perde Almeno una delle ADL Delle ADL basiche Io direi Che forse ne perde Più di una Attualmente Ecco Comunque Giama 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 Nel 2011 Diceva Che più del 50% Dei pazienti Ospedalizzati Dei pazienti Con più di 85 anni Dopo il ricovero Ha almeno Una ADL In meno Questo È Un grosso problema Perché vuol dire Aver creato Una disabilità Nel malato Che poi spesso Lo porta A non essere Più in grado Di ritornare Nel suo ambiente Familiare E a dover essere Istituzionalizzato Qui addirittura Giama dice Che noi dovremmo Re-ingegnerizzare L'ospital care Cioè Fare un processo Veramente strutturale Per cercare Di mettere in atto Tutti quei Meccanismi Correttivi Che ci possano portare A vedere L'ospedalizzazione Come un momento In cui il paziente Acquisisce salute Non Riceve Solo un trattamento Per la malattia acuta Ma poi si ritrova Con una disabilità E questo Si vede molto bene Anche nei pazienti Che hanno Per esempio Le malattie respiratorie croniche Questi sono i pazienti Con la BPCO Cosa possiamo fare Per migliorare La traiettoria Di questo paziente Che entra Con un problema acuto Ha ovviamente Molteplici fattori di rischio Che sono L'immobilità L'infiammazione L'utilizzo degli steroidi Il ridotto apporto dietetico L'ipossia L'ipercapnia Possiamo fare Della riabilitazione Possiamo fare Dell'esercizio fisico Perché Da risultati Eccellenti Migliora La qualità di vita E riduce Le riospedalizzazioni Veramente Tantissimo Infatti Sempre da questo lavoro Se voi vedete Cosa succede Quando il paziente Viene ospedalizzato Cominciamo a trattare L'infiammazione La dispnea Migliora Il paziente Ricomincia Anche a mangiare Ma cosa succede La massa muscolare Inevitabilmente Declina E la capacità Di attività fisica Viene progressivamente Persa Il paziente Risulta Allettato Alla dimissione Il paziente Ha perso Moltissima massa muscolare E spesso È a rischio Di nuove Esacerbazioni Di riospedalizzazioni Proprio per questo motivo Pertanto In conclusione Sicuramente La buona salute Aggiunge Vita Agli anni Dal mio punto di vista È altrettanto importante Che aggiungere Anni Alla vita Forse Dico forse Il magic bullet Quello che in oncologia Viene detto Il proiettile vincente Il colpo vincente Forse potrebbe essere Veramente la riabilitazione E per finire Come in questo campo Ma anche in molte altre cose Della vita Sicuramente Less is more Vi ringrazio molto Apro io Ci sono domande Dall'audience Per la dottoressa Pavan Mentre l'audience Inizia a pensare Faccio una domanda provocatoria Abbiamo parlato Dell'importanza Del movimento E del movimento Anche all'aria aperta Fondamentalmente Per il deficit cognitivo Secondo te Quanto dobbiamo agire Di più A livello sociale Cioè le nostre città Sono adeguate All'anziano Cosa stiamo facendo Dal punto di vista sanitario Perché poi Ci sono le buche C'è il parcheggio selvaggio L'anziano non esce L'anziano non esce Sicuramente stiamo facendo poco L'anziano spesso vive E' confinato in casa Qualche volta Si dice Ma provate a prendergli Magari un cane Che vada a passeggiare Un pochettino il cane Perché l'anziano Tende a restare Chiuso in casa E progressivamente Questo porta A una perdita Non solo Della massa muscolare Ma anche Di quel Tessuto sociale E relazionale Che è importante Per il benessere globale Della persona E' chiaro che E' molto difficile Per il singolo medico Per il singolo professionista Sanitario Implementare questa cosa Perché si può dire al paziente Guardi lei Deve uscire A fare la passeggiata Ma poi Se non c'è la persona Che lo accompagna Se il paziente Non ha il supporto Sociale che serve Spesso questo Resta lettera morta Pertanto Dovremmo cercare Se possibile Di fare rete Cioè di agire Su più livelli Perché l'intervento Solo del medico Che lo vede in ambulatorio Non è sufficiente O del medico di famiglia Servono anche Probabilmente Delle politiche A livello sociale Una migliore Una migliore Come posso dire Presa in carico Globale Della persona anziana Ecco Prego Un attimo Un attimo Deve arrivare il microfono Perché tutto è registrato Mi ha presciuto Un po' una domanda Un po' Quello che mi chiedeva È questo Se nel paziente Nell'anziana Che viene ricoverato In qualche modo Viene indagato Il luogo dove vive In ambito rurale O metropolitano In geriatria Malattia di Alzheimer Per esempio Una delle iniziative Un po' diffusi È quella di fare Gruppi Di questi anziani Con i familiari E fare proprio Delle passeggiate E fare attività motori Cioè la domanda è In qualche modo Immagino che sia così Che l'anziano Che vive in una città Metropolitana È più a rischio E forse un po' di meno L'anziano che vive In un ambiente rurale Che magari coltiva L'orto Che c'è il cagnolino Che vanno a raccogliere Che vanno a raccogliere Proprio l'anziano Ci dice che dobbiamo ridurre Che dobbiamo ridurre le disparità È chiaro che se io Sono un anziano Che ha un buon tessuto sociale Che ho coltivato Delle relazioni O delle persone Attorno a me Avrò poi anche Un invecchiamento Molto diverso Rispetto a una persona Che non è Che non ha fatto questo Ecco Infatti Proprio Mi ha fatto venire in mente Il documento Dell'OMS Dice che in realtà Dell'invecchiamento sano Bisognerebbe cominciare E preoccuparsi Anche nella prima metà della vita Non solo nella seconda Per cui forse Tutti noi Dovremmo cominciare A pensare A quale tipo di vecchiaia Vorremmo vivere Insomma Matteo Mi permetto È acceso? Mi sentite? Sì Mi permetto di integrare Non è una domanda È molto importante L'osservazione Del contesto sociale Io volevo Richiamare La vostra attenzione Sul tipo di abitazione Verona Non è una Grande metropoli Ma è una città Il cui centro storico È ancora Molto popolato Da persone anziane Che vivono In case Senza l'ascensore Sembra una banalità Ma se voi guardate L'indice di Bartel C'è l'ultimo item Che dice Capacità di scendere le scale Ecco Quello È un item Che secondo me Non vale come gli altri Vale di più Perché tante volte C'è la possibilità Di uscire Ma non c'è la possibilità Di fare le scale E molti anziani Nei centri storici Che hanno palazzi Un po' più alti Dei paesi Dove magari c'è La villetta Due piani Capito E' più semplice Nel centro storico Ci sono ancora Tanti pazienti Che vivono Al secondo Al secondo Al terzo Al quarto piano Senza l'ascensore Sarebbero in grado Di uscire Ma non sono in grado Di fare le scale E per molti anni Della loro vita Rimangono confinati In casa In ragione di questo Quindi bisognerebbe Che si ponesse Più attenzione Alle soluzioni Tecnologiche Che tutti conosciamo In monta scale Insomma Ecco Quello fa una grandissima differenza Nella traiettoria Prognostica Del paziente Il poter uscire O meno Cambia Tutto Se il problema E' solo la scala Dobbiamo pensarci Altre Altre domande Un commento Ma Devo dire che Ormai Dobbiamo imparare Un po' di più Come Professionisti Della salute In genere A ragionare Non solo in termini sanitari Ma anche Sociosanitari Che invece Probabilmente Alcuni aspetti Ci mancano Stamattina Nella sessione precedente Nella sua relazione Il rettore Ha detto una cosa Che mi ha fatto riflettere Ha detto che Lo specialista Che chiamano più frequentemente Aldea E l'assistente sociale Anche noi Il reparto Questo vuol dire Che i problemi Su queste cose qui Dobbiamo probabilmente Le figure Intermedie Gli educatori professionali Piuttosto che altre figure In quest'ottica Dovranno Anche perché C'è poi un problema Noi continuiamo a fare Dei ragionamenti E ci facciamo Tutti i ragionamenti C'è un problema Di sostenibilità economica E di costi Di tutto questo Che Ha un suo impatto Cosa ne pensi? Sì Mi permetto anche di dire Il ruolo fondamentale Degli infermieri Reparti di geriatria Molto avanzati Hanno addirittura Il terapista occupazionale Ecco però Il ruolo fondamentale Degli infermieri Perché sono gli infermieri Quelli che promuovono La mobilizzazione Del paziente Sono gli infermieri Quelli che permettono Il mantenimento Di quelle che sono Le abilità Anche del malato Per cui È veramente Ovvio che è difficile Perché i carichi di lavoro Sono sempre più elevati I pazienti sono di più Gli infermieri Anche loro sono compressi In moltissime attività Come si diceva oggi Anche di tipo burocratico Perché teniamo presente Che anche loro Devono svolgere questa cosa Il tempo sul paziente Si riduce Sicuramente la coperta È corta Come per tantissime cose Però perlomeno Secondo me Avere la consapevolezza Del problema Nella nostra pratica Clinica quotidiana Ci può perlomeno Portare ad avere Un minimo di attenzione Insomma che è quello Che possiamo fare noi Che non siamo Decisori politici O persone Insomma Con responsabilità Istituzionali Ecco Allora andiamo avanti Sì Ok allora Grazie Chiara Poi tanto faremo ancora Una discussione finale A questo punto Seconda relazione Invito il dottor Matteo Grezzana A parlarci di Arte della deprescrizione Devo dire che mi piace molto Il titolo Non so se l'hai modificato tu O se te l'abbiamo dato noi Arte della deprescrizione Perché come vedrete Matteo Avevamo già avuto l'occasione Di sentirlo in un webinar Un po' di tempo fa Deprescription è sicuramente Uno dei problemi clinici Rilevanti Nella complessità attuale Del sistema Quindi Saranno Quelle di Matteo Delle riflessioni molto importanti A te Grazie Non lo so Se me lo sono dato io Se me lo avete dato voi Io credo che ce lo siamo dati insieme Questo è un tema Che a me sta molto a cuore E che ho avuto l'onore Di sviluppare insieme a voi Abbiamo stretto questa collaborazione E questo è il frutto Di questa collaborazione Che a me piace molto Perché è un tema Lo vedrete anche Nelle diapositive Nella chiacchierata che farò Di stampo squisitamente geriatrico La deprescrizione È un atto dove Ci dobbiamo cimentare Con la convinzione E anche la consapevolezza Di essere Più bravi degli altri O perlomeno a questo Dovremmo mirare Io comunque Vi ringrazio per l'invito Ringrazio Edging Project L'Università di Piemonte Orientale Un bellissimo ambiente Un bellissimo convegno Con il clima E l'atmosfera Che piace a me E Questa conoscenza Ha portato Dei frutti molto importanti Almeno per noi Quindi grazie davvero A tutto il panel Del congresso Per l'invito Io Voglio iniziare Dicendo che La deprescrizione Deve essere considerata Un approccio Sistematico Un approccio Sistematico La terapia dei pazienti Volta ad identificare Quali sono i farmaci Che sono passibili Di una revisione Perché probabilmente Il loro rapporto Rischio-beneficio È sfavorevole O non più favorevole E questo È la definizione In positivo Che però Forse Prende ancora più significato Se noi andiamo a vedere In negativo Che cosa Non è La deprescrizione Non è un taglio lineare Alla spesa farmaceutica Non è in altre parole Una spending review Non è negare Un farmaco utile Ad un paziente Che ne ha bisogno Ci mancherebbe altro Noi abbiamo La cultura Del sistema Sanitario universalistico Dobbiamo Crederci Senza mai Mollare E non è sospendere Un farmaco Ad un paziente Che ha avuto un problema Perché quella È tutta un'altra cosa Quello è un atteggiamento Reattivo Invece noi dobbiamo Cercare di essere Proattivi La deprescrizione È un atteggiamento Proattivo E non è conseguenza Di qualcos'altro A chi ci dobbiamo Rivolgere Ci dobbiamo rivolgere Innanzitutto A qualsiasi paziente Che abbia Una polifarmacoterapia Quindi A chiunque Abbia In terapia Più di 5 farmaci Soprattutto Se è un paziente Geriatrico Perché questo È un campanello L'allarme In quanto sappiamo Che oltre i 5 farmaci La probabilità Di interazione Quindi di reazione avversa Diventa una certezza Fondamentalmente In Italia La situazione È stata descritta Ed è drammatica Oltre la metà Della popolazione In età geriatrica Ha una polifarmacoterapia Addirittura Uno su tre Ha più di 10 farmaci Che assume contemporaneamente Quando si aggiunge Un farmaco L'ho già detto La certezza Per quanto statistica Di andare incontro Ad una reazione avversa È sempre dietro l'angolo Ma ricordiamoci Che un ricovero Su 10 In ambiente ospedaliero È dovuto Ad una reazione avversa Ed essendo Una reazione avversa Che conduce al ricovero Deve essere ritenuta Per definizione grave Questa è una cosa Che abbiamo avuto Occasione Di misurare In un bellissimo studio Osservazionale Con grandi numeri Nell'azienda ospedaliera Di Verona Dove io lavoravo Una volta E effettivamente I dati Che abbiamo estrapolato Su oltre mille pazienti Ricoverati consecutivamente Era proprio Quello che dice La letteratura Uno su dieci Viene ricoverato Per azione avversa E quali sono i numeri Che ho elencato Di metto lì Delle percentuali Giusto per colpire La vostra attenzione Due su tre Abbiamo detto Sono in polifarmacoterapia Ma perché addirittura In dimissione Dall'ospedale Quindi l'ospedale È un fattore di rischio Da questo punto di vista Uno su tre Degli ultra 65 anni Ha oltre dieci farmaci In terapia Nel futuro Saranno milioni Nel prossimo futuro I pazienti In polifarmacoterapia Metà Delle Reazioni avverse Da polifarmacoterapia Sono sicuramente evitabili Il problema Diventa drammatico Quando andiamo Alla Analisi Delle strutture Degli ospiti Delle strutture Praticamente La totalità Degli ospiti Pazienti Sono in polifarmacoterapia Che conduce Inevitabilmente A due ordini Di problemi Uno sul paziente L'altro sul sistema Sanitario nazionale Il paziente Chiaramente Perché Ha dei costi propri Dal punto di vista Economico e sanitario Anche in termini Di reazioni avverse Ovviamente Il sistema sanitario nazionale Perché i farmaci costano E molti Sono in regime di esenzione E poi perché bisogna trattare Le reazioni avverse Ci dobbiamo rivolgere Soprattutto ai pazienti E sono di nuovo La maggioranza Che transitano Da diversi Setting assistenziali Che passano Diverse visite specialistiche Qui è facile Che si inneschi Il fenomeno A cascata Molto noto Per cui si inizia Un farmaco Questo induce Una reazione avversa Che trattiamo Con un altro farmaco Che induce Un'altra reazione avversa E così via Bisogna Stare molto attenti In altre parole Ma questo lo riprenderò Fra pochissimo A quando Ritrascriviamo Una terapia Dobbiamo essere Lì Estremamente critici Perché il paziente Viene da un setting Entra nel nostro E noi quando Ritrascriviamo La terapia Dobbiamo cercare Di essere critici Si parla tanto Tantissimo Di riconciliazione Terapeutica È un mantra Da qualche anno Ma questo A me Non basta Perché quello Deve essere il momento Della deprescrizione La riconciliazione Non vuol dire Ricopiare Come direbbero I bambini Alle elementari Una terapia precedente E aggiungere Quella dopo Senza fare errori Vuol dire Cercare Di mettere in atto La deprescrizione Questo deve essere Ma il concetto Non è passato Di sicuro Non è passato Dobbiamo poi Cercare di Essere estremamente Critici Quando abbiamo Di fronte Un paziente Fragile E molto avanti Negli anni In altre parole È molto semplice Il concetto Dobbiamo capire Il significato Del time to benefit Cioè se io faccio Una terapia di prevenzione Che darà Verosimilmente Un risultato Favorevole Statistico A dieci anni Il paziente Un'aspettativa di vita Di due Sto facendo Un non senso Sto mettendo in atto Un non senso Terapeutico E questo È un concetto Estremamente importante Che sfugge Quasi sempre Chiaro che gli esempi Possono essere tanti Basta pensare Alle statine In prevenzione primaria E poi andare avanti Con la prevenzione Per l'osteoporosi E così via Poi ci sono anche Gli usi inappropriati Di farmaci Per tempi indefiniti Come la memantina Neurolettici Inibitori di pompa Eccetera Eccetera Come si fa A fare la deprescrizione? Innanzitutto Bisogna fare Una buona prescrizione E di conseguenza Viene fuori La deprescrizione Bisogna mettere in atto Un circolo virtuoso Dove il punto 1 Ricognizione della terapia È forse il più importante Insieme al punto 5 Rivalutazione e controllo Lo vediamo Fra un attimo In mezzo C'è la valutazione Delle indicazioni La condivisione Degli obiettivi E la sospensione Graduale dei farmaci La ricognizione Della terapia Bisogna fare Sempre la ricognizione Su tutta La terapia Che assume il paziente Tutta Anche quella Che è autogestita Il prodotto Da banco Anche prodotto Di erboristeria Tutto quello Che il paziente assume Dobbiamo cercare Di farlo a domicilio Perché è lì Che viene fuori La verità La verità Non sta scritta Nella ultima lettera Di missione O nell'ultima Visita specialistica La verità Sta nel cassetto Dei farmaci Del paziente O nel cestino Dove tiene le scatole O nella scatola Da scarpe Dove tiene tutte le confezioni Quello è il setting Ideale Però capite Che in ambulatorio È difficile farlo Poi Dobbiamo valutare Le indicazioni E qua Ritorno a dire Il controllo dei sintomi Deve essere reale Mi viene in mente Il pregabalin Per esempio Per trattamenti Di dolori strani Specifici Forse neuropatici Che non ha molto senso Ma soprattutto La fondatezza Dei criteri Di prevenzione primaria Ho appena fatto il cenno Sulle statine I pazienti Poi spesso Continuano ad assumere Farmaci Non più necessari È il caso Dell'imbittore Di pompa protonica Cosa diffusissima Le reazioni avverse Devono essere valutate Dobbiamo anche vedere Se ci sono farmaci Più moderni Perché magari Uno si porta dietro Una prescrizione Vecchia di 30 anni Di un beta bloccante In tre somministrazioni Giornaliere Con difetti Di aderenza Alla terapia Eccetera Possiamo fare di meglio Dovremmo riscrivere Manualmente La terapia Ogni volta Che vediamo il paziente Perché quello È il momento In cui possiamo Essere critici In rianimazione Nel mio ospedale Le terapie Vengono riscritte Tutti i giorni Su un foglio di carta Ecco Loro Probabilmente Sono più attenti A non protrarre Inutilmente Delle terapie senza senso La cartella informatica Da questo punto di vista Non aiuta Perché ci si porta dietro Farmaci Che anche durante Un ricovero ospedaliero Magari non ha più senso Dopo una decina di giorni Poi bisogna condividere Gli obiettivi con il paziente Bisogna capire Quali sono le sue preferenze Bisogna capire Se i farmaci Su di lui Possono avere Un effetto placebo E allora dobbiamo essere Possibilisti O nocebo E allora li dobbiamo Sospendere Bisogna capire Quali sono le motivazioni Per cui Una terapia Viene prescritta E spessissimo I pazienti I loro caregiver Non sanno Il motivo Dell'utilità Di una terapia Vedi gli anticoagulanti E poi dobbiamo Ovviamente agire Su tutto ciò Che non è farmacologico I pazienti Vorrebbero Questo lo ha detto Un bellissimo lavoro Di JAMA Nel 2018 Vorrebbero avere Meno farmaci Quindi noi cerchiamo Di Assecondare Questo loro desiderio Questo è un Un tributo A un bel lavoro Fatto dal Lone Institute Che ha fatto vedere Con questa immagine Che cosa cambia In un 92enne Che prendeva I farmaci Del piatto di sinistra Revisione della terapia De prescrizione Che cosa arriva a prendere Dopo una settimana Di realmente necessario Poi bisogna Sospendere gradualmente La terapia inappropriata Le benzodiazepine Sono la sfida Più difficile Perché vanno scalate Molto lentamente Ma vanno scalate Fino ad arrivare A sospenderle E poi Quinto punto Fondamentale Come il primo Rivalutazione E controllo Qui ci abbiamo Anche messo Il marchio Di AMGE Che ho l'onore Di presiedere L'associazione Multidisciplinare Di geriatria Perché abbiamo scritto Con voi Nel vostro glossario Che cos'è La deprescrizione È importantissima La rivalutazione Ma vuol dire Che il paziente Lo dobbiamo rivedere Ma dobbiamo essere Disponibili Non può essere Che lo rivalutiamo Fra un anno O fra sei mesi Se ci sono dei problemi Che sono intercorsi Dopo la sospensione Di farmaci Dobbiamo rispondere Al telefono In pratica Se tentiamo Di sospendere Una benzodiazepina La probabilità Che la telefonata arrivi È altissima E noi dobbiamo Farci trovare Pronti alla risposta Che come si fa Ci sono tantissimi supporti Tantissime linee guida Si può Scegliere Quella che si vuole L'importante È che ci sia La cultura Di studiare La questione Io vi propongo Intercheck Che è uno strumento Sviluppato dal Mario Negri È free Non ha alcun costo Basta registrarsi Noi lo usiamo molto Perché è uno strumento informatico Che ci aiuta Nel trovare i farmaci Inappropriati Ci dà il carico Anticolinergico Che in geriatria È fondamentale E ci dice anche Quali sono i rischi Di interazioni E l'impatto Che una terapia Può avere Sul paziente anziano È veramente Un bellissimo strumento Provate ad andare a vederlo Se avete voglia e tempo Però Tutto questo Non basta Perché C'è un problema Di tempo Che non abbiamo C'è un problema Di solida cultura Che è poco diffusa C'è un problema Di dover vincere L'inerzia Terapeutica E poi Il solito discorso Dei problemi relazionali Con i colleghi Con i pazienti Con il caregiver Chi dovrebbe farla La deprescrizione In teoria Tutti sono coinvolti Anche gli infermieri I farmacisti Ma queste sono Buone Nobili Fantasie Un farmacista I farmaci Li vende È difficile Che sia promotore Di una deprescrizione L'infermiere Ha chiaramente Un margine di azione Piuttosto limitato Quindi il medico Quale medico In teoria È il medico Di medicina generale Ma io dico No In teoria Il geriatra Questa è la figura Più coinvolta Nella deprescrizione Perché ha la solidità Della cultura Ha la forza Della etichetta Specialistica Che il medico Di base Purtroppo non ha E quindi Dovrebbe il geriatra Sentirsi estremamente Gratificato Dovrebbe sentirsi Un grande specialista Quando riesce A portare avanti Una deprescrizione Ben fatta Il futuro È questo In America La deprescrizione Viene rimborsata Come una prestazione Specialistica Qualsiasi In molti stati Qualsiasi Nel senso Di alto profilo Dobbiamo arrivare Anche noi A dare grande dignità A questo atto medico Chiudo Con gli ostacoli Gli ostacoli Alla deprescrizione Sono I medici Cioè noi stessi Perché facciamo Molta fatica A contraddire Un collega Molta E spesso Non abbiamo La forza Di prenderci La responsabilità Di sospendere Una terapia Prescritta Da un collega Ecco il ruolo Del geriatra Che non avrà mai Il medico Di medicina generale Purtroppo Poi ci manca Il tempo Questo è fuori discussione Anche perché Vi ho detto prima Che andrebbe fatta A domicilio La deprescrizione Ci vuole tanto tempo Ci vogliono tante forze Ci vuole Anche tanta forza Individuale Per fare le scale Che il paziente Non riesce a fare Salirle noi E andare su E tirare fuori i cassetti Poi c'è la cultura La prescrizione Inutile che Ce lo nascondiamo È figlia del marketing A cui siamo Sottoposti Quotidianamente E dal quale Siamo bombardati Gli ultimi concetti Sono quelli Che si spendono bene In una sede università Bella come questa Ed è quella Della formazione Che non esiste Una formazione specifica In ambito universitario Che coltivi La competenza Alla deprescrizione Da piccoli Negli studenti Non esiste E poi c'è un problema Di tipo Metodologico Perché Facciamo fatica A misurare I risultati positivi Di questo processo Dobbiamo crederci Ma è difficile Mettere in atto Qualcosa Che dimostri Solidamente Che quello Che abbiamo fatto È stato Realmente utile Non è come Prescrivere Una statina E vedere Che il colesterolo Scende Dobbiamo quindi Cercare Tutti insieme Di lavorare In questa direzione Perché queste Consapevolezze Prendano spessore Scientifico E Pratico Nell'attività Clinica Quotidiana Vi saluto Con la mia Cara Città Grazie Grazie mille a Matteo Ci sono domande Dall'audience Collega Non vedevo più Il cronometro Però ci sono stato 18 minuti Sui 20 Che hai dato Mi tocca Mattia O Matteo 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 Verona Verona Sono un medico Della mutua E Ho apprezzato La tua La tua franchezza Con quel No I medici In medicina generale L'ho apprezzato Perché Chiaramente È il tuo pensiero E quindi Autorevole E Anche perché Sei messo lì Non hanno tempo Ma dopo hai messo Un'altra cosa Che Non hanno l'assetto Specialistico No Hai usato un'altra parola Forse L'etichetta L'etichetta Non hanno l'etichetta Specialistica Ne parlavamo anche Prima Con Gianluca Sul discorso Della specializzazione Ah scusami Sì Mi sembra che Il palinsesto Sia molto importante E Gli a chi A tutti E chi Siano le domande Veramente Fondamentali Se vogliamo che La deprescrizione Possa Avere senso Io Nella nostra esperienza Di medicina Di medicina generale Abbiamo Alcune esperienze fatte Sia nel campo della ricerca Che nel campo Della operatività A Pinerolo Per esempio C'è un ambulatorio Di DERT Di deprescrizione Di riconciliazione Terapeutica E non solo in America Viene pagata Ma viene pagata Anche a Pinerolo Con un Accordo Con una direzione Generale È ovvio Che ci vuole Una formazione Particolare È ovvio Che ci sono Ostacoli E barriere Però penso che La collaborazione Con la geriatria È in dubbia Ma Se parte una medicina Di iniziativa In cui Non dico a tutti Perché è un pochettino Utopistico Ideologico Ma se riusciamo A identificare i fragili In maniera proattiva Gli altamente E moderatamente Fragili Con degli indici E degli scordi Fragilità Che noi abbiamo In automatico Per cui possiamo Dalle nostre gestionali Tirare fuori Questa lista E chiamarli E Al di là di tutto Fargli una valutazione Multidimensionale Che è il vero Vulnus Che il medico Di medicina generale Ha dal punto di vista Di utilizzare Strumenti validati E Noi lo facciamo Come progetto Nella mia azienda In cui Gli altamente Fragili Identificati Vanno poi incontro A Cinque semplici Operazioni Quindi la valutazione Di deficit Utilisivi La deprescrizione E la valutazione Della fragilità Quindi Io volevo chiederti Se questo no La medicina In medicina generale Perché l'hai detto Per più deciso Quindi non è una cosa Sei convinto Sei un qualche cosa Che è legato A una tua visione Del mondo E quindi Alla realtà Che ti circonda O sei in prospettiva Non può Cambiare questa cosa E non vedi Che in un'altra Medicina generale In un altro assetto In una ristrutturazione Anche del comparto Possa invece Essere contaminato Cioè il geriatra Contaminare La medicina generale E fare in modo Che questo si espanda È una domanda Sincera e costruttiva Tu sei stato Sincero quanto me E apprezzo Altrettanto Io non posso Che complimentarmi Con quello che stai Portando avanti Dalle mie parti E dicono Che la sanità Del nord est Funzioni bene Non esiste Quindi Ho il punto Di osservazione Dei miei territori C'è Un Grosso problema Rispetto a quello Che io Auspico Noi siamo Pochissimi Voi siete Tantissimi E anche Fra di noi Ma figurati Quanti siamo noi Oggi sentivo In Aula Magna Ribadire Che i pediatri Sono In quantità Mostruose Geriatri Non ci sono Le geriatrie Nelle vostre regioni Del nord ovest Non esistono Rispetto a noi Che abbiamo Una geriatria per ospedale Tanto per dire Ma siamo comunque Pochissimi Quindi La mia affermazione È figlia Della realtà Contestuale Sarebbe molto bello Che andassero avanti Iniziative come la tua In collaborazione Con la geriatria Bisognerebbe che i geriatri Stessi fossero più colti Perché non è che siano Tutti i geni Quelli che fanno I geriatri Sia ben chiaro Cioè Gli incapaci Sono uniformemente Distribuiti In qualsiasi professione E anche in qualsiasi specialità Però Il mio è un auspicio Vedo però Un limite Diciamo strutturale Cioè Il medico Di medicina generale Spesso richiede Un intervento specialistico Una visita E mi domando Con quale forza Poi mette in discussione Una prescrizione Che sarebbe discutibile Ecco Questo è un problema Forse Si potrebbe lavorare Su tutto ciò Che il paziente Assume Su autoinduzione Dello specialista Altro grandissimo tema Lo specialista Il neurologo Il cardiologo O qualsiasi specialista Vede il paziente In ambulatorio E dà la visita Di controllo A un anno È utile? Quasi mai In quella Ciclicità Di osservazione Specialistica Viene spesso Reiterata Una terapia Discutibile E settoriale Perché Nella visita Che tu Leggi Specialistica C'è la terapia Di quella Specialità Non si tiene conto Di tutto il resto Quindi Almeno su questo Il medico Di medicina generale Cioè Quando non è lui A richiedere la prestazione Ma è autoindotta Dallo specialista Può fare molto Quindi Io spero Che tu possa Diffondere Questa cultura Nell'ambiente Della medicina generale Davvero Il più possibile Fino ad arrivare Al nord est Dove questo non c'è Io sono molto vicino Al nord est Abbiamo solo il 15 E non bisogna trovare Volentieri Grazie Rubo un attimo Mentre portano il microfono Al collega Noi lavoriamo Con pazienti diabetici Ok? 70 100 al giorno Quello che stiamo facendo Noi nell'anziano Più che altro La deinsulinizzazione Perché adesso abbiamo Farmaci potenti Long acting Che ce lo permettono Ma le linee guida Sulla glicata Ci dicono Puoi iniziare A essere più largo Nel paziente fragile Su tutto ciò che sono Le complicanze Vedi la statina Di cui parli Non te lo dicono Quindi L'obiettivo è sempre più stingente Ci dicono che dobbiamo Scendere sempre di più Per fare la prevenzione Cardiovascolare Che a 90 anni Se devi ridurre la mortalità A 20 anni Effettivamente Non ha senso Secondo te Quanto in tutte le linee guida Di patologia Dovremmo Aggiungere a questo punto Il de-prescribing Perché c'è solo il prescribing Tutte E come facciamo? Dobbiamo essere bravi Perché queste cose qua Purtroppo Sono figlie Della cultura Dell'esperienza Di scuola E individuali Non abbiamo Pezze d'appoggio Ma la geriatria Questo è La geriatria È giusto Che si occupi Di tutti I soggetti Ultra 65 anni Io sono un geriatra Ormai Di vecchia data Ma Continuo A pensare Che la geriatria Inizi lì Perché lì Inizia la forchetta Non è vero Che la geriatria Si deve occupare Degli ultra 80 anni Non è vero Perché Attorno ai 65 anni Inizia la forbice Fra chi invecchia bene E chi invecchia male E bisogna partire da lì Bisogna avere La capacità Di distinguere Chi Deve Essere trattato Secondo linee guida Anche se ha 75 anni Magari anche 80 E chi invece Deve uscire Da quello che I sacri testi Ci dicono Per essere approcciato In una maniera Altamente Specialistica E competente Ma in modo Del tutto Personalizzato Quando si parla Di medicina Sartoriale Che va tanto di moda Da qualche anno Dobbiamo pensare Alla geriatria Cosa c'è di più Sartoriale Della geriatria C'era il collega In fondo Chiedo ancora la parola Si sente Si sente Ma Dottor Grezzana Mi sembra che Avrei toccato Tutti gli aspetti Sui slide Di questo problema È un problema Culturale A taggione 60 gradi Io di mestiere Faccio il medico Mi occupo Di programmazione Sanitaria Quindi mi occupo Nella mia azienda Di piani locali Di prevenzione Nella cronicità Per intenderci Ma A volte io mi chiedo In maniera come Comune cittadino Vedendo alcune persone Anziane Che prendono Veramente Un elenco Corposo di farmaci Che hanno Una capacità Metabolica Diuretica E cardiologica Importante Perché fanno Un carico Di farmaci Quotidiano E riescono Ad andare avanti Come fanno Per anni Con quel carico Biochimico Chimica A sopportare Tutto questo Io dico Veramente Ha una tempra forte Quell'anziano Ma data a parte È un problema Culturale Io Lei dottor C'è nato Tutti i vari problemi È un problema Di tempo Di spazio Di risorse È un problema Culturale Ma culturale A 360 gradi Secondo me Perché questo Probabilmente È soltanto L'inizio Di un percorso In che senso Immagino Che un paziente Che va dal suo Medico di famiglia Al medico di medicina In generale Per un problema Se il medico Lo ascolta E gli dà Dei consigli Comportamentali Dietetici Probabilmente Esce deluso Perché si aspetta Che gli dia un farmaco Se ha un problema E quindi Il medico Di medicina generale Chiede a consulenti Specialisti Che va dal neurologo E il neurologo L'ascolti Dalle consiglie Ed esce senza Una prescrizione Di un farmaco Probabilmente Il paziente Resta deluso Cioè è un problema Culturale C'è il problema Poi insomma In buona sostanza Il farmaco Ormai Ha avuto Una diffusione Pazzesca In maniera incredibile È diventata Un po' la panacea Del nostro mondo Ogni sintomo Sicuro in questo modo Qua Siamo convinti Che il farmaco Sia la cura di tutto Certamente Ci sono dei farmaci Importanti Salva vita Pensiamo per esempio Che io Un paziente anziano Che quindi Più patologie Va da cardiolo Che giustamente Gli prescrive I suoi farmaci Poi probabilmente Anche un diabete Di tipo 2 Gli prescrive Il diabete organo I suoi farmaci Poi va da suo neurologo Probabilmente Magari un po' di astenia Gli prescrive I suoi farmaci Ognuno Gli fa l'elenco E come carriera della spesa Torna con questi pacchetti Io vado in farmacia Come tutti voi Io sono un iperteso Prendo due farmaci Ipertensivi Perché insomma Anch'io piano piano Aggiungo i miei problemi Vedo persone anziane Che con il sacchetto Della spesa E' un problema culturale E allora in sostanza Cosa fare? Certamente E' già importante Con lei Una riflessione interna Nel nostro ambito medico Ma probabilmente Forse bisogna tornare Un pochino indietro E quindi Negli ambiti universitari Questa materia Della prescrizione Probabilmente deve essere Una materia di riflessione E ragionare su questo Farmacosi Ma non sempre Non per tutti Grazie Hai detto Tutte cose Condivido pienamente Che ho cercato Di far capire Facendo una rapida Carrellata Ho voluto toccare Tutto quello Che mi sta molto a cuore Richiamo La vostra memoria Sul concetto Di effetto Placebo e nocebo Nessuno di noi E' abituato A indagarlo Perché tutti i pazienti Sono diversi Ci sono quelli Che sono convinti Che una terapia Sia realmente utile Quelli che l'assumono Mal volentieri Noi dobbiamo Tenere conto Di queste inclinazioni Diversificate Fra i pazienti E non lo facciamo mai Invece bisogna imparare A farlo E poi Ribadisco Che fare La deprescrizione È un atto È un atto Di grandissima Soddisfazione Specialistica Ma è estremamente Complesso Bisogna avere Una immensa Credibilità Sul paziente E sui suoi familiari Perché altrimenti Si rischia Di deluderli Come dici tu Perché già uscire Da una vista Senza una nuova prescrizione Può mettere in dubbio L'utilità Della vista Figurati Toglierli i farmaci Ecco Bisogna avere Una grandissima Credibilità Ma poi Bisogna anche Sapersi mettere In discussione Perché delle volte Ci sono delle deprescrizioni Che necessitano Di una piccola retromarcia Per esempio Sugli antipsicotici Anche sulle benzodiazepine Dobbiamo essere disponibili Quando noi facciamo La deprescrizione Dobbiamo aprire La massima disponibilità A rispondere A dubbi A rivedere Che cosa sta succedendo A correggere il tiro A non essere intransigenti Noi dobbiamo essere Molto bravi In tutto questo Se ci riusciamo Credo che sia L'atto specialistico Geriatrico Di maggior soddisfazione Ma è difficile Grazie ancora Una riflessione Poi andiamo avanti Per rispettare i tempi Partendo anche Dalle considerazioni Che faceva Pierangelo Prima Penso che Questo tipo di ragionamenti Sicuramente La componente geriatrica È fondamentale Per gli aspetti Geriatrici Dobbiamo però Far crescere E questo lo dico Da docente universitario Ma anche da specialista Dobbiamo far crescere All'interno Ciascuna specialità Soprattutto Delle specialità mediche Che prescrivono Enorme unità Di farmaci Molte volte In maniera Troppo settoriale E non olistica Questa Considerazione Probabilmente Dovremmo metterci A ristudiare Un po' di più La farmacologia Cosa che Anche nel corso Di Laura Viene fatta Il terzo anno E poi Da lì si fanno Le cliniche E forse si dimenticano Troppo Questi aspetti Teniamo anche conto Del fatto Che ovviamente Abbiamo a disposizione In questo momento In qualsiasi specialità Io penso almeno Alla nostra In diabetologia Negli ultimi Cinque sei anni Abbiamo avuto Un'esplosione Di molecole E di farmaci Via di somministrazione Assolutamente Differenti E questo ci implica Una maggior conoscenza Ma un ragionamento Da questo punto di vista Perché poi Nel continuare A fare Le nostre Valutazioni Rischiamo Di portarci dietro Delle cose Che non sono più Necessari L'attenzione A queste cose È importantissima C'è un problema Prima forse Chiara Diceva Nella mezz'ora Di visita Non si riescono A fare tutte queste cose Noi In diabetologia In questo momento Abbiamo 15 minuti Per la visita Non mezz'ora E ogni 15 minuti La regione Piemonte Ci chiede Un'altra visita In 15 minuti Dover Far tutto Come? Certo E non possiamo Non vedere i pazienti Se non ogni sei mesi O meglio una volta all'anno Perché se no Riempiamo Quindi ci sono Tutta questa serie Di problemi Che ovviamente Dobbiamo considerare Grazie davvero Grazie a te Matteo Flavia Grazie E adesso Mi sentite? Sì Chiamiamo il professor Massimiliano Caprio Il professor Caprio È professor ordinario Di endocrinologia Alla San Raffaele Pisana di Roma È esperto Di diabetologia Di andrologia E negli ultimi anni Grande esperto A livello mondiale Di terapie dietetiche Oggi ci parlerà Massimiliano Di approcci dietetici Che impattano Sull'invecchiamento Prego Max Buongiorno a tutti Grazie per l'invito Un ambito estremamente interessante Quello dell'invecchiamento E l'organizzazione Mondiale della Sanità Ha cercato di definire Cosa si intende Per un invecchiamento sano L'invecchiamento sano Fondamentalmente È rappresentato Dal processo di sviluppo Di mantenimento Delle abilità funzionali Che vanno a determinare Il benessere Ora Sono state identificate Sarò breve Perché probabilmente Avete già affrontato Questi argomenti Nella giornata di ieri Tre sfere Soprattutto La capacità intrinseca Che comprende chiaramente Le capacità mentali E fisiche L'abilità funzionale Che invece prevede L'interazione con l'ambiente L'interazione con L'ambiente dove il soggetto si trova E fondamentalmente Ha cercato di identificare Dei determinanti Che potessero valutare Il livello di autosufficienza Soprattutto di invecchiamento sano A livello di Tutto il mondo Quindi in popolazioni Che sono anche estremamente diverse Per quel che riguarda L'environment Sia socio-economico Che fisico E purtroppo i dati Sono allarmanti In quanto Vediamo che Oltre 140 milioni Di soggetti Di età superiore A 60 anni Non erano in grado Di soddisfare I requisiti minimi Di quello Che viene considerato Un invecchiamento Sano Ora Ci troviamo a parlare Di approcci dietetici Probabilmente perché? Perché l'intervento Sullo stile di vita Abbiamo già visto Quanto sia importante L'intervento Sull'esercizio fisico Sulla motricità Del soggetto Fragile Ma La dieta L'intervento nutrizionale Probabilmente È Il trattamento Che è più potente Che ha più Dati Disponibili Nel corso di Quasi 100 anni Di ricerca Come vediamo Questa ricerca Nasce nel 1930 Con la prima dimostrazione Che la restrizione calorica Sul modello Preclinico Dei roditori Determina Un notevole incremento Della vita E questo è importante Perché ci mostra Come i processi Di invecchiamento Anche a livello cellulare Fondamentalmente Siano dei processi Plastici Che risentono In modo molto Molto sensibile Dell'ambiente Circostanze E soprattutto Delle calorie E del metabolismo Energetico E quindi del 1930 L'osservazione Che la restrizione calorica È in grado Di incrementare la vita Ma poi Utilizzando Altri modelli Sperimentali Dai nematodi Ai lieviti Sino ai mammiferi Quindi Sono stati effettuati Studi importanti Anche sulle scimmie Sui cani Hanno Arricchito Notevolmente Il panorama Dell'effetto Dell'intervento Nutrizionale Su tutto ciò Che è La longevità Identificando Dei Percorsi E dei Pathway Che sono Estremamente Conservati Tra le specie Quindi Come vedete Questa Diapositiva Riassume Quelli che sono I pathway Molecolari Più sensibili All'intervento Sulla restrizione calorica Che riguardano Che coinvolgono In modo importante L'autofagia L'autofagia È quel processo Cellulare Importantissimo Che favorisce Il recycling Degli organelli E dei metaboliti E che È fondamentale Sappiamo che Alterazioni del processo Autofagico Sono tipiche Di molti stati patologici Soprattutto dove c'è Un invecchiamento precoce La riduzione Della sintesi proteica E della crescita E soprattutto La plasticità Del metabolismo energetico La capacità Della cellula Di adattarsi E di utilizzare Carboidrati O lipidi Questo è molto importante Perché prevede Una funzione mitocondriale Estremamente plastica Con una produzione Di stress ossidativo Controllato Questi sono tutti Gli elementi Che possono contribuire All'invecchiamento Non c'è soltanto Quella Della 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 L'invecchiamento cellulare Chiaramente È fondamentale Ma ci sono tanti altri aspetti Come per esempio L'impoverimento Delle cellule Staminali Alterazioni epigenetiche Disfunzioni mitocondriali La instabilità Genetica È molto importante Sappiamo quanto Sia Importante La lunghezza Dei telomeri Mantenere la lunghezza Dei telomeri È forse un marker Molto Predittivo Dell'invecchiamento Cellulare E Nel I primi studi Sul nematode Su C.E.legans Che devo dire È un modello Che ha chiarito In modo molto chiaro L'impatto Per esempio Del Psiglian impact Dell'insulina E dell'insuline Lycrofactor Ha Diciamo Aperto la via A chiarire Il ruolo Dell'eccessiva Stimulazione Di questo patto E sull'invecchiamento In particolare Questo nematode Ha questo Esprime Questo Recettore Che è il DAF2 Che è un ortologo Del recettore Dell'IGF1 E dell'insulina E si vede Che mutazioni Si è stato visto Per la prima volta In questo modello Che mutazioni Di DAF2 Determinavano Un incremento Della vita Dei processi Miglioramento Proprio Della Aspettativa di vita Di questo modello Peraltro MTOR È una kinasi Molecolare È fortemente inibito Le sirtuine E il NAD Più Invece Hanno un effetto Esattamente opposto Si sa che Le sirtuine Sono delle Deacetilasi Molto importanti Che rimuovono Gruppi acilici E hanno Un ruolo Importante Nell'inibizione Di MTOR E si è visto Che invece La presenza Di NAD Più E di Di queste sirtuine È estremamente Più Abbondante Nei soggetti Che hanno Nei soggetti Sani Nei modelli Preclinici In cui invece C'è un invecchiamento Precoce C'è una deplezione C'è una riduzione Di questi Patti molecolari Questa Diciamo Diapositiva Mostra un pochino L'integrazione Tra questi Patti molecolari A cui vi ho Accennato Probabilmente Più chiara In quanto si vede Che sotto Restrizione calorica Oltre a una Inibizione Del patto Del segnale Insulinico Abbiamo Un incremento Del signaling Di NAD Più E delle sirtuine Che va a favorire MPK MPK è un sensore Molecolare Molto importante Che sente La restrizione Calorica E che va a favorire Tutti quei processi Che poi sono Fondamentali Per L'allungamento Dell'aspettativo Di vita Il contrario Invece avviene Con MTOR MTOR È un segnale Molecolare Che viene appregolato Invece dall'abbondanza Dall'eccessiva presenza Di metaboliti energetici E dalla dieta Ad alto contenuto In grassi In calorie Vedete come è complesso Il processo Dell'invecchiamento Vediamo che oltre Appunto a quello Di cui abbiamo parlato Sinora È fondamentale Tenere in considerazione Anche l'infiammazione cronica Infiammazione cronica Che sappiamo Essere Un fenomeno Comune Di tante Patologie croniche Per cui Diventa difficile A quel punto Capire Se un intervento Nutrizionale Ha un'azione Sulla longevità Che è diretto Che è diretto Sui geni Che favoriscono Appunto L'estensione Del ciclo cellulare O se È semplicemente Un intervento Che va a ridurre Le malattie cronico-degenerative E quindi a ridurre La mortalità Per queste Per queste cause Ora La ricerca È molto attiva Su questo campo Sappiamo che Sono Peraltro In corso Attualmente Degli studi Clinici Per identificare Dei mimetici Della restrizione calorica Sappiamo che In corso Questo studio Sulla metformina Che ha un'azione Soprattutto su modelli Murini È stato visto Come incrementa L'aspettativa di vita La metformina Al momento È questo studio Che è il Time study Sta valutando Soggetti non diabetici Sani Che fanno metformina Per un periodo Sufficientemente lungo E chiarirà Probabilmente L'applicazione Di questo farmaco Estremamente Noto Soprattutto a noi Diabetologi Sulla potenzialità Di incrementare L'aspettativa di vita Inoltre Ci sono tanti studi Sugli attivatori Delle sirtuine Sull'aspirina Sugli inibitori Del recettore Mire al corticoide Ma devo dire Che al momento I dati Sono estremamente Poco conclusivi Quindi È la nutrizione È la dieta È l'approccio nutrizionale Che è L'elemento Che è stato Più studiato E che ha raccolto A oggi Evidenze scientifiche Solide Anche Che iniziano a essere presenti Anche nell'uomo Quindi Sappiamo che La dieta Perché è così importante? Perché va a costituire Un elemento fondamentale Di tutto L'esposoma A cui Il soggetto È esposto Durante la vita Non solo nutrienti Ma anche inquinanti ambientali Tossici Ormoni Nutrienti E quindi La dieta È un qualcosa Che influenza La nostra aspettativa Di vita Il nostro benessere Nel corso Di tutta La vita La dieta Mediterranea Forse È l'approccio nutrizionale Più noto E più studiato Sappiamo Quanto Quanti siano Quanto sia Abbondante La letteratura A questo riguardo Ma sicuramente In termini Di longevità È molto importante La presenza Di composti Bioattivi Che favoriscono I processi Di longevità E Sono tante le caratteristiche Che hanno Un impatto favorevole Dalla riduzione Dei lipidi All'effetto Antinfiammatorio Ma soprattutto Alle modifiche Favorevoli Del microbiota Intestinale Alla riduzione Dei grassi Saturi E alla riduzione Delle proteine Animali In particolare Questa diapositiva Mostra Quali sono Gli elementi Specifici Della dieta Mediterranea Che determinano Un miglioramento Della azione Antiossidante Un miglioramento Dell'insulino Resistenza Un miglioramento Del microbiota Intestinale Un miglioramento Del metabolismo Lipidico Sono tutte Azioni Estremamente Importanti Che Coesistono E che favoriscono Tutte insieme Il processo Di longevità Lo studio Predimed Un sottostudio Di questo grosso Trial Clinico Multicentrico Che ha coinvolto Oltre un milione e mezzo Di partecipanti Ha mostrato Una correlazione Diretta Tra incremento Riduzione Della mortalità E aderenza A un modello Di dieta mediterranea Quindi un miglioramento Di due punti Della aderenza A la dieta mediterranea Ha determinato Una riduzione Del 10% Della mortalità Questo è un dato Estremamente forte Che poi Altri studi Hanno cercato Di correlare Con dei determinanti Che potessero spiegare Questo effetto favorevole Sulla longevità E' stato visto Per esempio Che C'era un'associazione Tra lunghezza dei telomeri Nella popolazione femminile A un anno Di osservazione Questo effetto Non è stato osservato A 5 anni Quindi probabilmente La lunghezza La stabilità E la lunghezza Dei telomeri Era uno degli elementi Che determinava Questa riduzione Della mortalità La restrizione calorica E' stata studiatissima A livello Dei modelli preclinici Sappiamo che Nel modello Di eroditore Si è raggiunto Addirittura Un incremento Del Del 50% Dell'aspettativa Di vita Con una riduzione Dell'apporto calorico Dal 20 al 50% Abbiamo Chiaramente Degli esempi Nella storia A partire Dalle carestie Nella seconda guerra mondiale Che Hanno Tantissimi studi Soprattutto gli studi Scandinavi Hanno mostrato Come questi Episodi Queste fasi Di carestie Avessero determinato Una selezione Avessero favorito Comunque Processi di longevità Ma Lo studio Forse più Importante E più specifico Fatto Con La restrizione calorica E' lo studio Caleri Dove E' stata Dove soggetti Fondamentalmente Sani E giovani Sono stati seguiti Con una restrizione calorica Che doveva essere Del 25% Poi in realtà E' stata osservata Che in media raggiungeva Circa il 17-20% Soggetti uomini E donne Sani Di età compresa Tra 21 e 50 anni Gli uomini 21-47 anni Le donne Quindi dovevano essere In età Ancora Premeno pausale E' stato visto Per esempio Che Questa popolazione Sana Andava incontro A una riduzione Contemporanea Di diversi parametri Di rischio cardiovascolare Riduzione del BMI Significativa Riduzione della pressione Arteriosa Miglioramento Del metabolismo Dei glucidi Inteso come Riduzione Dell'insulinemia Della glicemia A digiuno E miglioramento Della risposta A un carico Orale Di glucosio Quando è stata Studiata L'effetto Di questa restrizione Calorica Sempre su questa Popolazione In termini di Modifica Della composizione Corporea Quindi è stato Fatto uno studio Di risonanza magnetica Su un piccolo Sottogruppo Di questa popolazione Si è visto Che Come vedete Dal Primo Riquadro Dopo 24 mesi Di osservazione Il compartimento Corporeo Che andava incontro A una maggiore riduzione Era proprio Il tessuto adiposo Quindi c'era Una riduzione Notevole Del tessuto adiposo Soprattutto sottocutaneo Rispetto Al viscerale Mentre c'era Una riduzione Del tessuto magro Soprattutto Tessuto muscolare Scheletrico Che era di circa Il 17% Quindi Un intervento Nutrizionale Che determinava Un notevole Impatto Anche sulla composizione Corporea E questo è un intervento Nutrizionale Lieve Quindi non particolarmente Aggressivo Che di fatto Favoriva Comunque Un miglioramento Del profilo Metabolico Di questi pazienti Parliamo di Time Restricted Feeding Si è parlato Molto Ultimamente Di aumentare La fase Di digiuno Ci sono Tanti Modelli Possibili Di timer Restricted Fini Diversi protocolli Di azione Fondamentalmente Qual è il meccanismo Il meccanismo è di non intervenire Sull'apporto calorico Né sulla quantità relativa Di macronutrienti Ma Quello di Cercare di estendere La fase di digiuno Per favorire Tutti quei processi Che appunto Sono stati osservati Durante il digiuno E durante La restrizione calorica Si è visto che C'è una notevole alterazione Soprattutto Dell'espressione Genica A livello Epatico A livello Di tanti organi Quelli che sono I clock genes Ma Questo lavoro Ho cercato di riassumere In breve Questo lavoro Apparso su New England Recentemente Mostra Che fondamentalmente Non si è raggiunto Su una popolazione Dismetabolica Obesa Il time Restricted Eating Applicato Su una Appunto Su questa popolazione Non ha determinato Un significativo incremento Del calo bonderale E dei parametri Metabolici Rispetto Ad una restrizione calorica Giornaliera Quindi Al momento attuale Diciamo che I dati Clinici Su modello Umano Non sono a favore Di Cioè Non ci sono Vantaggi rispetto Alla restrizione calorica Parliamo di Diete chetogeniche Accenderò brevemente Alle diete chetogeniche In quanto Sono anche qui pochi Gli studi diretti Sulla longevità Quindi Gli studi Attualmente disponibili Sono soprattutto A livello di Modelli preclinici Forse il primo studio Che ha sottolineato L'importanza Della chetosi Nutrizionale Del beta-idrossibutirrato Sulla longevità E questo Pubblicato su Science Nel 2013 Ove si mostra Che il butirrato Ha un'azione diretta Di stimolazione Di FOXO3 E FOXO3 Appunto Fa parte Di quei Patui molecolari Che vanno A favorire Il metabolismo Cellulare A favorire Appunto Il metabolismo Energetico In termini Di incremento Della longevità Ma Più in generale La dieta La dieta chetogenica Ha una caratteristica Che è quella Della riduzione Drastica Dei carboidrati Quindi non c'è Soltanto Un impatto Della produzione Di corpi Chetonici Ma anche La drastica Riduzione Di carboidrati Ha sicuramente Un impatto Su tutto Quello Che è Il meccanismo Genetico E il meccanismo Diciamo Trascrizionale Che porta A un incremento Della longevità Sono tanti Gli studi Che come vedete Hanno coinvolto Diversi approcci Farmacologici E nutrizionali Che riducessero L'apporto Di carboidrati In generale I fattori Che regolano Il controllo Della durata Di vita Che sono Diciamo Influenzati Negativamente Da carboidrati Sono numerosissimi Per cui Va da sé Che la riduzione Drastica Dei carboidrati Ha sicuramente Un impatto favorevole Queste sono Le altre vie Di segnale Sensibili All'azione Del beta-idrossi Butirrato Come vedete C'è anche un'azione Sull'inflammasoma C'è un'azione Sull'istoni Sulla regolazione Dell'istoni Tutte azioni Che sono Estremamente Importanti Per spiegare L'effetto favorevole Che è stato dimostrato Appunto In questi studi Che vi mostro Questi studi Sono stati Effettuati Su topi Con Probabilmente Protocolli Nutrizionali Leggermente diversi Questo qui Ha utilizzato Un protocollo Nutrizionale Di dieta Chetogenica Alternata Dieta normale Ogni settimana Per circa 12 mesi E questo studio Ha dimostrato Proprio un incremento Una riduzione Della mortalità Nella fase Nella midlife Quindi i topi Fondamentalmente Morivano Più o meno Alla stessa età Ma c'era Una mortalità Maggiore Nel gruppo Che non seguiva La dieta Chetogenica Quest'altro studio Mostra Come Sono Mostra come Oltre All'incremento Alla riduzione Della midlife Mortality Veniva C'erano effetti Estremamente favorevoli Anche sul Comportamento Di questi Animali Durante Dieta chetogenica Migliorava la forza Miglioravano Le capacità Cognitive Si riducevano I tempi Per svolgere Esercizi Semplici Quindi un effetto Favorevole Anche a livello Diciamo Del sistema Nervoso Centrale Infine Quando parliamo Di dieta chetogenica Dobbiamo ricordare Che un effetto Importante Del beta Idrossibutirato È quello Sul metabolismo Energetico Ma soprattutto Sul metabolismo Muscolare C'è un effetto Anticatabolico Che è Estremamente Utile E che Come Mostra Questa Diapositiva Sappiamo Il beta Idrossibutirato Ha un'azione Favorevole Sulla sarcopenia Ma soprattutto Sulle fibre Muscolari Di tipo 2A Quindi Fondamentalmente La dieta chetogenica Non agisce Soltanto Attraverso Un sistema Attraverso L'azione Specifica Del beta Idrossibutirato A livello Diciamo Del Sistema Trascrizionale Del sistema Del muscolo Ma Ha azioni Potentissime Anche a livello Del sistema Nervoso Centrale Abbiamo visto Anche a livello Endoteliale Questo è un nostro studio Che è ancora in corso di pubblicazione Dove abbiamo applicato La dieta chetogenica A modello murino prono All'aterosclerosi I topi Apoenockout Che facevano Una dieta Aterogena Dieta aterogena Abbiamo Diciamo Studiato un gruppo Con dieta aterogena Un gruppo con dieta chetogenica Che conteneva La stessa quantità Di lipidi Della dieta aterogena Ma aveva Chiaramente una restrizione Importante dei carboidrati E vedete come Il gruppo Che faceva dieta aterogenica Aveva uno sviluppo Di placca Aterosclerotica A livello Dell'arpaortico Estremamente importante Cosa che invece Veniva Era Diciamo Prevenuta Dalla Contemporanea Nutrizione Con dieta chetogenica Inoltre abbiamo Valutato L'espressione Di molti Fattori Trascrizionali Endoteliali Che Dell'infiammazione Della polarizzazione Macrofagica Della attivazione Endoteliale E questi effetti Favorevoli Sul processo Aterosclerotico Trovavano supporto In una riduzione Di MCP1 Di WCAM Di tante molecole Di adesione Che sappiamo Essere responsabili Del processo Aterosclerotico Quindi un'azione Anche Anti Aterosclerotica Recentemente Si parla molto Di dieta chetogenica Nella Nella terapia Del cancro Non tanto come terapia Ma come Supporto Al paziente Che fa Chemioterapia Questo perché sappiamo Dall'effetto Warburg Che Molti cancri Non hanno bisogno Di zucchero Non sono in grado Di metabolizzare I corpi chetonici Ma anche qui I processi Metabolici Che si attivano In corso di dieta Chetogenica Hanno azioni Favorevoli Sia Mediate dal Miglioramento Dello stress Ossidativo Sia Mediate Chiaramente Dall'abbattimento Della signal Impatto Insulina IGF1 Sia Sia Antinfiammatoria Parlavamo Dell'infiammazione Cronica Di basso grado Come elemento Estremamente Collegato Alla senescenza Il beta Idrosibutirrato Ha un'azione Potentissima Sull'attivazione Dell'inflammasoma E previene L'assemblaggio Dell'inflammasoma Appunto Impedendo L'attivazione Delle Caspasi Impedendo La pireptosi Quindi L'incremento Massivo Di interleuchina 1 beta Interleuchina 18 Ed è in grado Questo è uno studio Fatto su uomini Su soggetti Sani Che seguivano Un periodo Breve Di dieta Chetogenica E' stato visto Che c'è una Riprogrammazione Metabolica Anche delle cellule T Questo spiega L'effetto favorevole Immuno metabolico Della dieta Chetogenica Che peraltro E' stato Diciamo Preso in considerazione Anche Durante L'epidemia Di covid Sono tanti Piccoli studi Che hanno mostrato Come fondamentalmente La dieta Chetogenica Poteva avere Un'azione Favorevole Proprio Nel impedire La tempesta Citochinica Nel favorire I processi Antinfiammatori In questi pazienti Purtroppo Gli studi Sono pochi E caratterizzati Appunto Da numerosità Scarsa Infine Per chiudere Questa Lunga carrellata Di approcci nutrizionali Che hanno impatto Sulla Longevità E' doveroso Parlare Delle diete Che mimano Delle diete Mima digiuno Quindi cito Questo lavoro Di Walter Longo Che ha Diciamo Per primo Parlato di Questo approccio Nutrizionale Che sono Diete Estremamente Ipocaloriche Con un Bassissimo Tono di Proteine Con pochi Carboidrati Con grassi Che provengono Soprattutto Da Grassi Vegetali E che hanno L'obiettivo Fondamentalmente Senza andare a Determinare Carica Che sia Malnutrizione L'obiettivo Di non alterare I processi Che invece Vengono A essere messi In atto Dal digiuno Ora Questo tipo Di approccio Chiaramente Si tratta di un approccio Breve Che può essere Condotto Per un breve periodo Il protocollo Prevede circa Una settimana Di trattamento Però c'è Questo studio Pubblicato recentemente Che ha mostrato Come In Una Campione Di pazienti Questo 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 protocollo Ha determinato Un miglioramento Dell'immunità Anticancro Questi erano soggetti Che venivano trattati Per carcinoma Della mammella Per cui Apre la strada A degli studi Di fase 2 E fase 3 Per valutare L'impatto Della dieta Della dieta Mima digiuno Sull'efficacia Anche Come Trattamento Quadjuvante Del Tumore Qual è Come Messaggio Da portare a casa La dieta Della longevità La dieta Della longevità Fondamentalmente Deve essere Deve Evitare La malnutrizione E la fragilità Abbiamo visto Come l'invecchiamento Alla fine Sia spesso Determinato Da una riduzione Del tessuto muscolare Dalla sarcopenia Per cui È fondamentale Non mandare In denutrizione Il paziente Questo lo vediamo Anche noi Quotidianamente In ambulatorio Quando prescriviamo Regimi nutrizionali A pazienti diabetici Molto anziani Dobbiamo sempre Tenere in considerazione L'importanza Enorme Della malnutrizione Deve essere Sartoriale Quindi deve Tenere conto Delle caratteristiche Del nostro paziente Deve tener conto Delle caratteristiche Genetiche Della sua composizione Corporea È evidente Che se un paziente Deve perdere peso È dismetabolico È diabetico Ha un diabete Mellito tipo 2 Ha un elevato Rischio cardiovascolare Beh L'approccio Di una dieta Che riduce Drasticamente Carboidrati Si è visto Che è estremamente Favorevole Permette in tempi rapidi Di ridurre Il peso corporeo E di abbattere Quei fattori Di rischio cardiovascolare Che ne determinano Un incremento Della potenziale Mortalità Deve Limitare Le calorie Deve preferibilmente Mantenere Questa finestra Di digiuno Garantita Di almeno 12 ore E deve limitare Le proteine animali I grassi animali I zuccheri semplici E gli alcolici Grazie Dell'attenzione Ringrazio il mio gruppo Che Collaboro Con cui collaboro Ormai da anni All'Università San Raffaele Roma Grazie Grazie Max Open Open for discussion Inizio io Quindi sostanzialmente Dobbiamo rivedere I nostri orari Di alimentazione serale Quello Sicuramente Dobbiamo imparare a mangiare Prima delle 8 di sera Assolutamente Sì Perché bastano 12 ore Di digiuno Per Determinare Comunque Un vantaggio Che è stato Comunque mostrato Sia in termini di Effetti metabolici Sia in termini anche Di stress ossidativo Di stress cellulare Che Il digiuno Fondamentalmente Ha un'azione Di Benessere Per la cellula Perché durante il digiuno La cellula Riprogramma Il proprio I propri meccanismi Energetici Ed è in grado Di riciclare Gli organelli Che sono danneggiati Di riciclare Tutto ciò Che È stato danneggiato Durante Durante Diciamo L'assunzione Di cibo Quindi il digiuno È una fase fondamentale Del Del meccanismo Mitocondriale Dei meccanismi Energetici Quindi È fondamentale Che questa finestra Sia rispettata Poi ci sono studi Che l'hanno Estesa Non ti preoccupare Il digiuno Ci ha battuto Si può provare A estenderla Si può provare A Si può provare A Ci sono I protocolli Per esempio Molto In Di moda Prevedono due giorni Di digiuno In una settimana Sono tantissimi Gli studi Che invece hanno valutato Un 16 Più 8 Quindi Una fase di digiuno Di 16 ore Con l'alimentazione Concentrata In 8 ore Però È chiaro Come Peccato che il Ramadan Poi prevede Che questi Questi pazienti Poi quando vanno a mangiare Mangiano di tutto E quindi vanificano Qualsiasi E sappiamo bene Come poi Questa cosa È un'azione negativa Però sicuramente Un elemento fondamentale È l'ora di cena Che se si riuscisse A cenare Prima delle 8 E a fare colazione Dopo le 8 Già rispetteremmo Uno dei cardini Della dieta Della longevità Dei principi Eh? Saltare la colazione Allora Ci sono degli studi Che hanno mostrato Come saltare la colazione Avesse invece Un impatto Negativo C'è uno studio Molto interessante Fatto negli Stati Uniti Su The Bigger Loser Non so se Avete mai sentito parlare Sono stati studiati I pazienti Obesi Con obesità grave Che seguendo Dei corsi Di Educazione alimentare Riuscivano a perdere Peso E I soggetti Che perdevano Più peso Erano quelli Che facevano colazione La mattina Quindi Purtroppo Nella popolazione Con obesità Il fatto di saltare La colazione Ha un impatto Che è stato visto Essere sfavorevole Però se io voglio Aumentare la finestra Di digiuno Sicuramente Saltare la colazione Può essere Può essere Uno strumento Questo dipende molto Dal soggetto Anche qui c'è la personalizzazione Della Della terapia Perché c'è chi Ha bisogno di fare colazione La mattina E Se non la fa Non sta bene C'è chi invece Non è abituato a farla Quindi Io non sono In realtà Non ci sono dati Che ci mostrino Che ci sia un approccio Migliore dell'altro Per cui Tanto vale rispettare Quelle che sono Le abitudini E anche le richieste Perché di fatto Prego Qui Professore Sarigamonti Grazie Allora Intanto complimenti Per questa relazione Molto interessante Sul digiuno Io mi occupo di malattie del fegato C'è un'eccezione Cioè ci sono studi Nell'ambito dei pazienti Con epotopatia cronica avanzata Soprattutto quelli che hanno Già avuto come complicanza L'encefalopatia epatica In cui Diciamo che addirittura Per prevenire Le recidive di Cepotopatia epatica È importante Che ci sia lo spuntino serale Che non ci siano Più di sei ore Quattro sei ore di digiuno Nei pazienti Perché questi Predispongono Sia allo sviluppo Di recidive Di encefalopatia epatica Ma essendo la cirrosi Uno stato Ipercatabolico Di per sé Peggiorano La sarcopenia Che a sua volta È alla base Dello sviluppo Di encefalopatia Quindi Ci sono Probabilmente Delle eccezioni In questo campo Però Il peggio Del paziente Epatopatico È l'obeso Sarcopenico In cui Dobbiamo Instaurare Una dieta Perché È importante Che perda peso Ma perda peso Perdendo Massa grassa E aumentando La sua quota Muscolare Sono assolutamente D'accordo Diciamo che Queste raccomandazioni O questi Gli studi che vi ho mostrato Fondamentalmente erano Applicati su Popolazioni sane Quindi Va da sé Che poi Gli stati patologici Richiedono approcci Diversi Ora Una critica Che mi sento di fare Alla Alla dieta Mima digiuno È che appunto Se è applicata Su un sarcopenico Credo che abbia Un impatto Negativo Perché? Perché Se un soggetto Soprattutto sarcopenico Obeso Che sono Probabilmente La categoria Più esposta A rischi Cardiometabolici Segue una dieta Che non supplementi Sufficientemente Le proteine Poi per carità Proteine vegetali Che siano Del migliore profilo Nutrizionale possibile E perde Massa magra Abbiamo visto Come la restrizione Calorica Sul soggetto sano Normale Fa perdere Circa un 17-20% Di muscolo Se questa quota Viene persa Da un soggetto Sarcopenico Andiamo a A peggiorare Il suo stato In questi termini La dieta Chetogenica Soprattutto La chetogenica BLCKD Che assicura Un introito Proteico Che è Quello necessario Per le necessità Metaboliche Che è il soggetto Che è il soggetto E che quindi Non è una Iperproteica Ma è una dieta Sufficientemente Supplementata In proteine Beh è migliore Da questo punto di vista Tant'è vero Che ci sono degli studi Pure sulla prevenzione Della patopatia Della NASH Favorevoli Sulla dieta Chetogenica Questo è Il commento Che mi viene da fare È che Se vogliamo aumentare La longevità L'obiettivo È di lavorare Sul soggetto sano Cioè Sul patologico Abbiamo già Un mucchio Di altre cose Credo che Il vero messaggio Da questo punto di vista Sia proprio Il soggetto normale Quindi aumentare La nostra longevità E diminuire La quota di malattia cronica Cristina Voglio ancora dire qualcosa No no Posso Intanto ti chiedo io una cosa Vent'anni fa Facevamo i congressi In cui intentavamo Di dare il GH Perché dicevamo Che aumentava la longevità E facevamo Proponevamo Le low fat Adesso siamo esattamente Contrario Cerchiamo di abbassare Le IGF1 E siamo Sullo carb Rispetto a questo Gli studi che hai fatto vedere Sulla prima e la seconda Guerra mondiale Secondo me sono Gli esperimenti Più interessanti Nel senso che Si vede proprio Che le popolazioni In restrizione Vivono di più Tranne Chi nasce Durante la restrizione calorica Nel senso che Nel Dutch study Si vede che Chi nasce Le donne Che rimangono incinta In restrizione calorica Abbiamo poi Dei neonati In prima e in seconda generazione Che poi in realtà Fanno Malattia metabolica Maggiore Quindi Secondo te C'è un timing Di vita In cui È meglio proporlo Cioè gli studi Nell'animale Ci danno Delle indicazioni Da questo punto di vista Perché poi la paura Che Diamo dei messaggi Però Non sono per tutto Come non è per il cirrotico Probabilmente ci sono Delle fasi Delle fasi della vita Dove il growth O la stabilizzazione Della crescita Ha un ruolo Guarda Il timing Di intervento nutrizionale Su un modello murino Grosso modo Aveva inizio A 12 Mesi Quindi In età Già evidentemente Adulta Sappiamo benissimo Che per esempio Un basso peso Alla nascita È un elemento Di rischio Per PCOS Insulino Resistenza Di diabete Per cui la carenza Nutrizionale Nelle primissime fasi Di sviluppo Anche nella fase Diciamo Dell'età infantile Sicuramente Lì dove Abbiamo bisogno Dell'attivazione Del GH Dell'IGF1 Dei fattori Di crescita Lì è Una fase In cui La restrizione calorica È dannosa Io credo Che questo tipo Di approccio Vada bene Nel momento In cui si è superata La pubertà Si è superata La maturazione sessuale E non ci si trovi In una fase Riproduttiva Anche di Anche di È evidente Che se Una donna Deve affrontare Una gravidanza Sappiamo come sia Importantissima L'asse della leptina Sappiamo come sia Importantissima Una quota minima Di tessuto adiposo Per favorire La fertilità L'ovulazione La gravidanza Quindi In una fase Che sta al di fuori Della crescita Della fase buberale Anche al di fuori Della fase riproduttiva Perché nel momento In cui noi Digiuniamo Andiamo a sopprimere Le potenzialità Riproduttive Di espansione Di crescita E andiamo invece A favorire la longevità E questo Torno a trovare Un bilanciamento Su questa Questa cosa Quindi fondamentalmente Alla nostra età Dobbiamo metterci Non andiamo a pranzo Adesso Questo è il messaggio Allora adesso Si esce da questa parte Si va a fare una bella passeggiata Tutto attorno Ai Baluardi E si evita Light Lunch Grazie a tutti Grazie ai relatori E ancora complimenti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti